E ho guardato la televisione e mi è venuta come l'impressione che mi stai stanno rubando il tempo e che tu, che tu mi rubi l'amore E da me così Senza parole Senza parole Buonasera, buonasera e benvenuti a Senza parole Questa sera parleremo di referendum Il 4 dicembre siamo chiamati a votare per un referendum molto importante Forse troppo importante perché non tutti hanno capito esattamente che cosa andranno a votare Questa almeno è la mia sensazione Questa sera insieme a noi abbiamo alla mia sinistra l'onorevole Ciriaco De Mita che non necessita di presentazioni, tutti sappiamo il grande ruolo politico che ha svolto nel nostro paese Poi a mio fianco ho il professor Leopoldo Cohen, docente di diritto amministrativo all'Università di Udine E il professor Bello, presidente dell'istituto per la storia del movimento politico dei cattolici Ecco professore, è un po' anche grazie a lei che è sul movimento che oggi abbiamo qua in studio l'onorevole De Mita Ma perché anche voi del movimento politico dei cattolici siete così impegnati a capire questo referendum? O forse illustrarlo? Beh, non potevamo lasciare passare inosservata la presenza del presidente De Mita in Friuli Per cui anche come istituto gli abbiamo chiesto e abbiamo chiesto al professor Cohen la cortesia di avviare questo dibattito per comprendere le motivazioni che spingono alcuni a sostenere il no, altri a sostenere il sì a questa riforma costituzionale E l'abbiamo fatto per due ragioni precise La prima, non possiamo interessarci soltanto della storia al passato ma anche della storia che si costruisce giorno dopo giorno Ed è evidente che questo referendum sulla modifica della Costituzione sarà un punto di svolta nella politica del nostro paese sia nel caso della vittoria del sì come nella vittoria del no In un senso e nell'altro dovremmo sempre avere come primo obiettivo l'interesse generale quello che nella nostra tradizione politica si chiamava il bene comune La seconda ragione che ci ha spinto a chiedere questo dibattito I cattolici democratici hanno avuto un ruolo fondamentale nel mantenimento della coesione nel nostro paese negli anni difficili dell'immediato dopoguerra e della scrittura della Costituzione E noi vorremmo che questo clima politico fosse mantenuto anche in questa occasione Il che vuol dire che non dobbiamo cercare una riforma qualunque o peggio una riforma di parte ma dobbiamo cercare la risposta giusta ai problemi di rappresentanza e di governo della democrazia italiana Ecco, allora io la interroppo su questo punto proprio per chiedere a Leopoldo Cohen prima di motivare le sue ragioni del sì di spiegare con grande obiettività quale le impone l'essere un docente di diritto amministrativo in un minuto ai tre spettatori che cosa si va a votare che vuol dire questo referendum? Se molti non lo sanno di fatto Allora, buonasera, buonasera a tutti Lo prevede la Costituzione stessa Se si approva una legge costituzionale e non si raggiunge il quorum dei due terzi nella seconda votazione c'è la possibilità di chiedere il referendum un cosiddetto confermativo E dunque, in questo caso poiché la votazione ha raggiunto praticamente quasi il 60% nell'ultima lettura è stata data questa facoltà appunto di ricorrere al corpo elettorale A questo punto il corpo elettorale dovrà pronunciarsi se questo progetto di riforma costituzionale è accettabile ha il favore del consenso popolare ovvero no Da notare che questo referendum è un referendum senza quorum quindi il risultato sarà valido qualsiasi quale che sia il numero dei votanti che parteciperà alla votazione Da questo punto di vista quindi è importante informare comunicare e soprattutto far sì che il maggior numero di persone sia poi indotto a recarsi alle urne Se vince il sì in maniera molto anche qui rapidissima veramente 20 secondi Se vince il sì cosa succede per far capire anche al ragazzo di 18 anni che ha appena accesso la tv? Ovviamente esprimo il mio punto di vista se vince il sì cambiano alcuni presupposti che fanno sì che le istituzioni possano essere più rispondenti e più responsabili in due battute Poi avremo modo di... risposta soggettiva non oggettiva Sì, certamente Ma perché vedo in alcuni meccanismi previsti da questa riforma la possibilità di raggiungere questo obiettivo Quali? Allora... Ho già tolto la poltrona Quali? No, ha fatto benissimo Più rispondenti più responsabili Per esempio io intendo la Costituzione soprattutto come atto normativo quindi una serie di regole giuridiche poste come limite all'esercizio del potere Secondo me la funzione delle Costituzioni non è tanto quello di prefigurare un futuro quanto porre una serie di limiti pochi ma importanti all'esercizio del potere E infatti io leggo soprattutto tutte le disposizioni che riguardano l'esercizio del potere normativo da parte del governo e il rapporto governo-parlamento come una serie di limiti che erano impliciti nel testo della riforma nel testo mi scusi della Costituzione del 48 e che i costituenti hanno ritenuto impliciti soprattutto quello che riguarda il potere di decretazione ed urgenza ma che poi in via di prassi perché poi la vita della politica del diritto conosce una sua logica che stacca la prassi dal mero dato normativo ha portato a degli esiti che sono estremamente preoccupanti da questo punto di vista Onorevole De Mita la interrompo perché altrimenti poi diventa troppo complesso Onorevole De Mita lei è fermamente convinto per il no ma proprio lei non crede neanche a questo referendum no detta così impropria noi non votiamo soltanto la riforma costituzionale che io potrei dire al professore è scritta malissimo e interpretare la Costituzione per come è scritta c'è bisogno dell'illuminazione divina la lettura dell'articolo 75 che prevede tutte queste facoltà innanzitutto sono scritte fuori del precetto costituzionale la Costituzione è fatta di norme brevi scritte in italiano e i costituenti affidarono poi la lettura definitiva ad un linguista questi insomma hanno preferito la brutalità dell'improvisazione ma il mio no non sembri paradossale non è legata alla riforma costituzionale sulla quale non do l'opinione favorevole la preoccupazione il combinato disposto della riforma costituzionale e della legge elettorale la legge elettorale introduce una possibilità di governo e a chi ha una maggioranza del 20 25% e avere la maggioranza assoluta con questa parzialità di voto io credo che sia rischioso io non attribuisco nessuna intenzione negativa a chi ha proposto la norma anzi vorrei dire al professore lei avrà letto meglio di me ci sono studiosi c'è una categoria di studiosi che registri il presente ignorando il passato e non conoscendo il futuro fanno la cronaca non l'analisi e c'è uno di questi che sostiene che il futuro della politica in Italia è fatta dalla magistratura dai carabinieri e dal governo cioè siamo più al governo militare anziché al governo democratico io probabilmente alla mia età ho maturato una convinzione che il potere vero in democrazia è dato al Parlamento il governo esegue e qua c'è un capovolgimento radicale è il governo che assume è un po' una dittatura di Renzi io non voglio detta così si forza è il sistema che cambia e ognuno di noi lo dico per me stesso se avessi la possibilità come dire di sottrarre potere è quasi una regola di vita una regola di competizione degli spazi la democrazia è fondata sulla rappresentazione la rappresentanza popolare questo lo dica il professore io ero convinto che la democrazia rappresentativa fosse quasi eterna quando ho letto un saggio americano che la democrazia è una stagione sono andati in crisi come se mi fosse mancato qualcosa e poi mi sono convinto mi sono convinto perché probabilmente è così allora rifletto molto di più su come si organizza la conseguenza anziché su inventare una cosa sbagliata se riteniamo o si ritiene che il meccanismo della democrazia rappresentativa è difficile e questa non è una cattiveria e la registrazione la partecipazione nelle epoche passate era un pensiero comune i partiti di cui tanto si parla male riassumevano le esigenze di fette larghissime di comunità che poi erano rappresentate in Parlamento se questo non è più possibile perché è così allora tendiamo di stabilizzare il governo ma di porre dei limiti di legge alla funzione del governo Professor Coni in sostanza mi sembra che a Monte ci sia anche un discorso ma che Renzi ha un po' forzato questo referendum ma ha creato un pataracchio dove non si capisce molto alla fine qual è l'obiettivo di questo referendum qualcuno dice che i quesiti possono trarre l'inganno perché c'è scritto volete un'abolizione dei senatori volete un'abolizione però non si spiega in che termini in che modi e qual è il cambio di quello che ci trova da bere secondo lei il quesito è posto in maniera chiara? Allora premesso che non ho la capacità e la competenza di dare un giudizio politico sull'operato del Presidente sicuramente ha più competenze di Renzi in materia di diritto amministrativo no no ma io quello che faccio è proprio attenermi al testo della legge al testo della legge per cui condivido il pensiero del Presidente di Mita condivido l'osservazione per cui noi oggi viviamo una crisi dovuta all'assenza dei partiti politici dopo che li abbiamo completamente distrutti laddove io distinguerei viceversa è tra il nesso inscindibile che si vuole stabilire tra riforma costituzionale e attuale disciplina del sistema elettorale della Camera perché se noi leggiamo il testo della riforma costituzionale in realtà è compatibile con i sistemi elettorali più diversi e con i sistemi elettorali più diversi quindi fra l'altro la riforma costituzionale prevede anche ed è un caso unico il sindacato preventivo della corte costituzionale sulla legge elettorale e quindi una garanzia in più per l'elettore il caso del cosiddetto porcellum non si sarebbe verificato con il nuovo testo della riforma costituzionale d'altra parte la complessità lo stile l'uso della lingua italiana e vabbè purtroppo purtroppo evidentemente non si è riusciti a far di meglio ma al di là al di là della complessità dei testi se c'è bisogno di stabilire delle regole di dettaglio e precise e queste sono funzionali proprio a operare quella distinzione tra ruolo della Camera e ruolo del nuovo senato senza affrontare adesso la questione del nuovo senato è chiaro che abbiamo bisogno di regole un po' più complesse perché per governare la complessità abbiamo bisogno di regole più complesse per quanto riguarda mi ha chiesto la questione del rapporto governo parlamento io vedo in questa riforma costituzionale una serie di regole che possono produrre una rivalutazione del ruolo del Parlamento non lo prenda come un paradosso la limitazione e la decretazione d'urgenza la definizione di tempi tolgono al governo alibi per fare ciò che adesso sta facendo abuso di decreti legge abuso di appunto di questi strumenti cioè oggi noi stiamo vivendo una crisi dovuta a una abusiva appropriazione da parte del governo dello strumento normativo vuole dire è un'espropriazione del Parlamento se entra in vigore la riforma come ha governato fino non fino ad oggi ma negli anni in cui governava De Mita era tutto un altro mondo si ma come le pensateva come governava avrebbe posto già un quesito refrendario all'epoca ma no all'epoca mi pare che le risposte siano state ok non solo me non mi chiede un giudizio le chiedo di sfilare troppo le chiedo di sfilare troppo no 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 guardi non ho nessuna difficoltà all'epoca in cui governava l'onorevole De Mita io stavo all'opposizione cioè le mie simpatie andavano all'opposizione e per quanto anche oggi lei è destinato ad essere all'opposizione di De Mita anche oggi nel quesito referendario era l'opposizione si ma è stato un'opposizione molto cortiale dove? ma io mi collocavo a sinistra ma sai che come dire l'aggressione a me era perché io stavo per costruire il rapporto con la sinistra ma infatti la mia opinione non era un'opinione sulla persona eccetera era un'opinione non la c'è stata la mia persona certo un'opinione sulle politiche che io vedevo più favorevolmente come dire più orientate verso la sinistra però io le chiedo scusa vorrei precisare una cosa a futura memoria non c'entra con la legge io ho cominciato ad avere ruolo politico rilevante all'inizio dell'82 l'esperienza mia di governo è stata relativamente breve direi che è stata più esaltante dal punto di vista della politica estera che non della politica interna però la la individuazione di cui io meno vando e che avevo capito altri avevano capito insieme a me che la organizzazione dello stato sociale in generale e in Italia se non si modificavano le condizioni saremmo andati in crisi e siccome molti e io tra questi ritenevo che le conquiste dello stato sociale andavano conservato avevamo fatto una distinzione su cui bisognerebbe riflettere altro è la tutela del diritto altro è l'organizzazione della prestazione l'organizzazione della prestazione compete col processo economico e burocratizzare la gestione del processo economico è difficile immaginare che risparmia risorse anziché accumulare risorse fra l'altro noi abbiamo realizzato una cosa molto singolare che la sanità è pubblica e dal punto di vista della prestazione sanitaria e dal punto di vista dell'assistenza però può essere stessa al privato con questa differenza che il pubblico risponde di alcune forme di assistenza costose e il privato basta che abbia il primario bravo io per aver discusso questo fui aggredito dalla sinistra che credo sia stata rappresentata dal professore ma non da tutta perché volevo cancellare lo stato sociale credo che a distanza di 40 anni oggi riflettiamo sulle difficoltà della sopravvivenza di queste istituzioni che è il grande problema della democrazia moderna non le battute le stupidità che si raccontano onorevole scusi se banalizzo la discussione no perché banalizzo io già so quello che voleva dire è una cosa intelligente ecco e quindi cambio domanda perché ne ne faccio una più scema allora no volevo chiedere un'altra cosa volevo chiedere un'altra cosa a questo punto no io ho la convinzione l'ho chiesto prima Cohen che chi segue da casa pensi che votare sì vuol dire votare a favore di Renzi votare no vuol dire votare contro Renzi se però si chiede a qualcuno che cosa cambia nella vita di un cittadino italiano quindi in questa riforma nessuno la sappia dire ci aiuta a capirlo perché neanche io dico la verità no io dico la mia opinione in maniera che sia chiara io nei confronti di Renzi e del partito democratico perché è difficile dissociare l'una cosa dall'altra e ho avuto sempre delle grosse riserve perché un partito senza pensiero non esiste è come una trasmissione senza parole in questo caso non dico ecco perché mi toglie la parola e in un partito non sono un partito appoggia un referendum sostenuto da un partito senza idee ma io penso innanzitutto questo un po' la imbarazza no non mi imbarazza innanzitutto perché io non identificherei la riforma costituzionale con un partito è vero che il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa ma questo sono tanti e diversi soggetti previsti dalla Costituzione che possono esercitare il potere di iniziativa governativa se ne interrompo non le dice niente che la proposta di riforma costituzionale anziché coinvolgere il Parlamento nella sua unità diventa un provvedimento di governo è l'iniziativa del governo è un'iniziativa del governo le leggi costituzionali sono deliberate dalla collettività lo so gli atti di governo sì e sulle regole il governo non può mettere la fiducia sì ma volevo dire che comunque questa votazione ha ragione l'onorevole senza dubbio però vorrei anche dare alcuni dati di fatto per esempio ci sono state sei letture ci sono state sei mila votazioni il risultato finale ha visto una maggioranza che ha sfiorato il 60% quindi io non identificherei questa riforma costituzionale né con il solo governo né tantomeno con il solo partito democratico e con chi? e con chi? qualcuno si assume si è assunto l'iniziativa con quel 60% che ha votato la riforma costituzionale che poi qualcuno che ha votato la riforma costituzionale in Parlamento poi abbia cambiato idea questa qua è una questione che riguarda questa no 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 ci sono due flussi anomali quello della raccolta dei singoli dove la raccolta del singolo non è l'arricchimento della fede è un processo però che la forma parlamentare è legittima ma la valutazione non dovrebbe essere indifferente poi l'altra cosa che viene ripetuta io sono abbastanza scandalizzato il dissenso vero in Parlamento e fuori non è stato tanto sulle proposte lo dico in maniera paradossale perché le risposte sono così paradossali che se non sono aggiustate non funzionano cioè c'è la garanzia della stupidità che non è una cosa da poco qua il problema è politico sulla legge elettorale non si è detto che quella era la legge elettorale e su quella si votava ma normalmente quando accadono processi così chi guida non è che registra il dissenso chi guida fa crescere il consenso l'onorevole Moro che era uno che si intendeva di processi politici quando su una questione trovava il dissenso lavorava ma lavorava per ridurlo perché è nell'interesse di chi agisce ridurre il dissenso chi ha la superbia della proposta anticipa una forma di governo dove il consenso diventa una liturgia inutile qual è la difficoltà e dico qual è la mia opinione non si meraviglie siccome io nella mia esperienza politica lunga come dire potrei passare come quello che si è sempre occupato di istituzioni ritenendo che la politica fosse scienza delle istituzioni nel momento in cui dominava il marxismo e qua era si parlò dell'epoca mia lei non è neppure nato adesso in un partito io sono come dire osservatore sereno sulla legge elettorale presentata dentro il PD c'erano dissensi riservati il capogruppo del PD che ha accompagnato l'approvazione aveva anticipato che se non si cambiava la legge lui non l'avrebbe condivisa ora non si può confondere il comportamento che è dentro la logica dell'appartenenza al partito con la dissenza all'improvviso perché uno che si dimette insomma non è un lamento che si dimette un gesto notevole che accade di rado anzi provi so che è una cosa molto difficile ma provi almeno su una cosa a convincere l'onorevole De Mita sulla bontà di cui si dovrebbe andare una cosa che su l'onorevole De Mita dire beh si qui a ragionare però effettivamente io mi sto un po' perdendo perché stiamo parlando un po' della parassi del governo un po' del procedimento legato vuoi all'approvazione della legge elettorale vuoi alla riforma costituzionale ma in realtà noi saremmo chiamati a votare su un testo che è già stato approvato e sui contenuti di quel testo perché questo è condizionale è perché qui stiamo un po' parlando di no è interessante stiamo parlando un po' di tante cose ma come dire questo testo rimane un po' sullo sfondo il testo approvato professore mi stia a sentire la legge elettorale non fu costituzionalizzata deliberatamente ma certo mi faccia finire però il rapporto istituzione legge elettorale è ineludibile non si può dire faccio una legge elettorale e le istituzioni no le due cose si condizionano la cosa negativa negativa la cosa per cui io dissendo lo dico in maniera serena sul resto ma io l'ho proposto quindi non è una novità avevo proposto si abolisca la legge elettorale perché la legge elettorale altera poi il funzionamento delle istituzioni e sulla riforma fatta si può anche votare ma discutendo prima le correzioni da fare perché ci sono alcune correzioni da fare io oserei dire scriviamola breve e in italiano Napoleone che si intendeva di diritto diceva le norme debbano essere brevi ed oscure ma è mai possibile che c'è un articolo 70 credo che lei l'abbia letto è lunghissimo elenga una quantità di problemi rinvia ora quando la norma costituzionale rinvia è una norma procedurale cioè c'è una confusione mentale che ha portato a quel tipo di iscrizione nonostante questo io dico togliamo la legge elettorale che rende perversa poi la riforma e poi discutiamo la riforma io voto sì alla riforma così ma senza la legge elettorale Presidente la legge elettorale è qualche cosa di indipendente è una legge ordinaria che si può cambiare domani no professore le due cose sono distinte ma sono interdipendenti è come se noi dicessimo che al piano di sotto vivono persone che esercitano una professione diversa dalla nostra e però siamo indifferenti alle potenzialità di scoppio delle caldà no bisogna tener conto di tutto la legge elettorale ma lei ha la fortuna di essere nato dopo e io la sfortuna e io di essere nato prima si è discusso molto su costituzionale o meno la legge elettorale ma sembrava che si desse poi la rigidità delle norme costituzionali ma mi faccio finire ma che siano interdipendenti è un fatto cioè le istituzioni senza la legge elettorale che legittima chi poi gestisce le istituzioni è come se dicessimo va a fare l'esame uno che non studia approviamo approviamo il testo della costituzione e cambiamo il giorno dopo la legge elettorale e la sottoponiamo al baglio della corte costituzionale non mi faccio finire come si fa a dire è più garanzia di così qua è un problema di credibilità è un problema ma io non faccio i processi e le intenzioni beh se il presidente del consiglio va in televisione e assume l'impegno che la legge elettorale si cambia ma non si cambia come dicono loro perché io ma mi faccia finire non correggono il meccanismo perverso cioè ipotizzare la maggioranza assoluta di governo con un sistema elettorale che porta al secondo voto a votare la metà degli elettori questo porta poi a legittimare chi governa con il 25-22% governare con il 20-22% è un atto di eversione costituzionale questo è vero un po' cioè governare con la miglioranza con il 30% però abbiamo però un momento ci sono sistemi di sicura tradizione democratica in cui in realtà le forze politiche al governo non è che hanno il 51% dei voti del corpo elettorale in realtà hanno delle percentuali anche molto basse ovviamente ogni ordinamento fa storia a sé però io tenderei e ribadisco approviamo la riforma costituzionale si cambia la legge elettorale in qualsiasi momento è una legge ordinaria giustamente non costituzionale è sottoposta al vaglio della corte costituzionale c'è un giudice costituzionale che è chiamato a pronunciarsi prima ancora che entri in vigore più garanzie di così? Allora andiamo un attimo brevissimamente in pubblicità dopodiché ritorniamo in televisione e vediamo se riusciamo però a capire anche che cosa cambia se passa il sì perché ancora io non l'ho capito pubblicità non l'ho capito non l'ho capito non l'ho capito non l'ho capito perché non l'ho capito